Stasera Inter e Juventus si giocano l'accesso alla finale che assegna la Coppa Italia a San Siro con inizio alle ore 21. Nero, azzurro e bianconeri si affrontano nella gara di ritorno della semifinale. Si parte dall'1-1 dell'andata che si trascina ancora le polemiche per il finale di partita a Torino, le successive squalifiche e le grazie elargite dal presidente Figgici Gravina. Domani sera c'è l'altra semifinale che appare con il destino già assegnato. Alle ore 21 la Fiorentina ospita la Cremonese. I Lombardi sono chiamati a ribaltare la sconfitta a casaligna dell'andata per 0-2.